Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono veramente contentissimo di presentarvi ben tre nuovi giochi Supercell. Come vedete sono all'interno del sito della Supercell, sono stati aggiunti tre nuovi giochi alla laurista, annunci 3 unique new Clash games in development. Questa è l'immagine di presentazione, come potete vedere notiamo Clash Quest a sinistra, Clash Mini in centro e Clash Heroes a destra. Andremo a tradurre adesso un attimo molto velocemente questo testo qua che c'è scritto qua e così lo andiamo ad analizzare assieme. Eccoci qui nella traduzione del nostro testo ai fan di Clash, abbiamo alcune notizie entusiasmanti da condividere con te. Il mondo Clash significa molto per noi di Supercell, praticamente in poche parole il nostro obiettivo è creare giochi che i giocatori amino e ricordino per sempre. Quindi l'annuncio di oggi è un po' speciale in questo senso, principalmente perché non abbiamo mai fatto nulla di simile prima. Siamo entusiasi di annunciare tre nuovi giochi Clash in fase di sviluppo. Innanzitutto diciamo quello che vi riassumo molto brevemente in quello che dice in questo testo. Viene principalmente detto il fatto che questi giochi non si sappia se effettivamente arriveranno alla fase di lancio globale, verranno aggiornati pian piano. Ma più che concentrarsi su questo articolo che era soltanto l'introduzione, direi di passare ai veri gameplay che trovate sul sito Clash.com, quindi cercatelo. E avete pure la possibilità di registrarvi, ma questo ve lo spiegherò in un altro video. Quindi passiamo subito su Twitter che vi faccio vedere due o tre cosette al volo. Allora, questo era il sito in cui parlavo, si chiama Clash.com, molto semplice, potete selezionare la lingua, selezionate la lingua IT. Ci sono i tre nuovi giochi e c'è anche la possibilità di registrarvi. Detto questo, giochi lavorazione dell'universo Clash. Iscriviti qui sotto per sapere in futuro se saranno disponibili nel tuo paese. Abbiamo tre giochi, Clash Quest. La descrizione di questo gioco è, Clash Quest è un gioco strategico a turni, ricco di avventure e ambientato nell'universo Clash. Fa i rotta verso israeli inesplorate e crea combinazioni dinamiche di truppe per abbattere nemici e boss colossali. Prima di andare però a parlare degli altri giochi, se schiacciate il tasto media, avete l'opportunità di vedere un piccolo spezzone di quello che poi è il gioco vero e proprio. Metto un attimo il mutuo nel game, perché sennò voi sentite troppo casino nell'audio. E andando ad analizzarlo molto velocemente, mettiamo subito così, notiamo come effettivamente è un gioco molto offline. Non mi sembra sia un multigiocatore, in cui noi dobbiamo attaccare delle difese già prestabilite, in questo caso ci sono due mortai e due torni d'inferno. E abbiamo delle truppe prestabilite, in questo caso c'è un set di 4x4 truppe, in cui ci sono le classiche truppe del mondo di Clash of Clans, Clash Royale, che poi possiamo vedere qua, il barbaro abbiamo, abbiamo il barbaro, poi abbiamo le altre truppe presenti all'interno di questo video, sono il barbaro, il goblin gigante, il principe. Ed insomma queste le immagini di presentazione, sembra un gioco molto molto carino, la grafica mi piace molto, l'animazione non ve lo sto neanche a dire. Perché riguardo al gioco in sé, non so effettivamente quanto possa essere funzionale portarlo adesso all'interno del gioco, perché mi sembra essere un gioco molto molto statico e non funzionale al mercato che richiede adesso all'interno del game. Ma staremo a vedere come lo aggiorneranno, se implementeranno delle novità che attualmente non sono presenti. Parlando invece dell'altro gioco, Clash Mini, è un gioco molto diverso rispetto al primo, ti presentiamo Clash Mini, un gioco da tavolo in cui i tuoi personaggi di Clash preferiti devono essere posizionati strategicamente e in cui successivamente prendono vita durante la battaglia. Vi spiego proprio velocemente come funziona. Andando a vedere il piccolo trailer che è presente anche in questo caso, che sono veramente pochi secondi, si può subito notare dall'inizio come effettivamente il gioco poi andrà a svilupparsi. Abbiamo una specie di tavolo da gioco nella quale noi abbiamo la possibilità di selezionare le truppe che saranno presenti esattamente in questi tre cuscinetti rossi in basso, che costano Elisir. Una volta posizionate le truppe si darà inizio alla vera battaglia, come vedete. Si posiziona lo scheletro gigante che ti dice occupa quattro caselle e ha due o tre caselle in attacco verso l'altro campo e poi dopo tutto di tempo che abbiamo posizionato anche lui le posiziona e si inizia la battaglia vera e propria. È una battaglia che penso sia che avvenga principalmente in modo automatico, ma quello importante da capire è che qua sotto c'è l'Elisir, appunto come vi ho detto, l'Elisir che riprende molto quello che poi era presente su Clash Royale e Clash of Clans. Riguardo alle immagini che erano presenti aggiuntiva a questa, abbiamo questa immagine di presentazione che è molto molto cute, carina e mi fa molto piacere vedere questa principessa col barracuda, mi fa molto molto bella e anche questo uomo qua che non ho ancora visto, non ho presente bene chi sia, ma andremo poi a vedere tutte bene le truppe. Questi sono tutti i personaggi presenti attualmente all'interno del game e questo è come si presenterà poi, diciamo, forse l'icona della modalità del campo di prova che sarà presente in battaglia, molto molto carina, la grafica di questo gioco secondo me spacca veramente tanto, non so anche questo quanto sia sicuramente più dell'altro, a livello di marketing è una scelta più di strategia perché è un gioco che attira di più, ma quello ragazzi, la vera bomba di tutti questi tre giochi è Clash Heroes, secondo me è un gioco bellissimo, pazzesco, soltanto a primo impatto e, vi ho detto a primo impatto, visto veramente un trailer di 10 secondi, andremo ad analizzare in dettaglio nei prossimi giorni gioco per gioco, parlando di come potersi registrare, quindi mi raccomando attivate la campanella ed iscrivetevi per non perdervi nessun tipo di contenuti. Riguardo a questo gioco dice Clash Heroes, viaggia nel mondo di Clash come non mai prima d'ora, parli all'avventura con i tuoi personaggi di Clash preferiti, esplora terre sconosciute, porta a termine missioni epiche e diventa un eroe leggendario di Clash. Questo gioco ragazzi secondo me ha un grande potenziale in quanto ha lo stile di Brawl Stars, in quanto siamo noi stessi, siamo noi personaggi che muoviamo il personaggio come meglio crediamo, infatti vedete che ci sono due joystick, abbiamo un joystick a sinistra e poi abbiamo due tasti in cui corrispondono, una un'abilità, una all'altra, dalla parte opposta dello schermo. È un early gameplay footage, quindi è sicuramente un trailer che va preso con le pinze, in quanto sicuramente cambieranno molte cose da qua al lancio che poi sarà quello globale del gioco, è un gioco che la grafica è molto realistica, è molto più tridimensionale rispetto agli altri due, che mi sembrano molto i classici giochi bidimensionali che non mi fanno neanche tanto impazzire, ve lo dico proprio sinceramente. Non vedo l'ora di provarlo, secondo me è un gioco che spacca, in quanto venendo da un trailer un po' più lungo che adesso non vi sto a far vedere, si vede come effettivamente si può muovere all'interno della mappa, ci sono vari boss da sconfiggere, come vedete queste sono le truppe attualmente presenti, il bomber, l'archer, il wizard e il barbarian, con le varie evoluzioni, quindi penso ci siano anche dei livelli di potenziamento, un sacco di robe carine, qua c'è addirittura una carrozza trainata da un cavallo con i vari personaggini sopra, insomma veramente stupendo tutto ciò, non vedo l'ora di provare il gioco, e qui invece abbiamo in generale l'arena, come sarà un pezzo dell'arena in cui in uno stile molto di clash of clans viene presentato il gioco. Non vedo l'ora di provarlo, non si sa ancora quanto ci vorrà per sviluppare tutto questo, io vi dirò poi nei prossimi video come farvi a registrare per provarli in anteprima, noi ci vi sentiamo in un prossimo video qua sul canale, mi raccomando spolliciate, condividete il video con i vostri amici e commentate qua sotto su cosa volete vedere nei prossimi giorni, sicuramente per un po' di giorni alternerò a MonGaz alle notizie di questi giochi, sperando di avere notizie fiorenti, in quanto spero in un'uscita molto vicina adesso. Ciao ragazzi, bella! Ciao!